Ciao a tutti mi chiamo Alberto e sono qua per dirvi che se volete visitare il mio YouTube è interessante. Troverete musica e tanti argomenti tra cui musica. Un po' di tutto. Carissimi amici ed amiche visitate il mio sito e vedrete che vi piacerà. Alberto Cagliari, una innovazione, una scoperta. Se volete sentire musica alternativa, se volete vedere qualche cosa di nuovo ed originale e moderno, se volete vedere ciò che desiderate sia con argomentazioni serie virgola oppure divertenti ecco ciò che fa a caso vostro punto. Alberto Cagliari punto Alberto Cagliari 3457100281 per animare le vostre serate virgola piacevoli punto non sapete cosa fare oggi. Volete una giornata divertente nei locali? Bene disponibilità a Cagliari punto la mia email al.lmb o chiocciola tscali punto mi ti chiamatemi punto un saluto da me a tutti voi punto ciao Alberto punto